Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse dove ragazzi vi farò vedere alcuni vestiti e alcune missioni che potete sbloccare su Play Store Allora intanto andiamo in cambio equipaggiamento e possiamo vedere che ho sblocato, no no questo non c'è altro niente ragazzi, patate Ecco il costume di Goku del nuovo film di Dragon Ball Focats 1 F, la risurrezione di Freezer E come potete vedere abbiamo anche una super cosa Goku con i capelli azzurri cioè Super Saiyan God secondo livello Come vedete questo è il nuovo vestito che ci sarà nel film e non è solo questo che ho sbloccato, che ho preso perché non ho sbloccato Ho anche quello di Vegeta, questo, però la parrucca di Vegeta non c'è, questo purtroppo non c'è e non c'è neanche come si chiama il vestito ancora di Freezer dorato Cioè Gold Freezer Ragazzi adesso vi faccio vedere dove potete trovare anche questi personaggi che vi faccio vedere Aspettate Allora, andiamo qua Andiamo qua, allora Vabbè prendiamo adesso uno a caso, prima il primo per esempio Quindi ragazzi come ho detto, scusate sono tornato un secondo indietro Dai, oh ecco, qua, tipo prendiamo, ah ecco Allora Potete sbloccare con due pacchetti gratis, Mira e la sorella di Dargula Poi potete sbloccare su Sherron e San Sherron E potete sbloccare Goku GT piccolo, Trans GT e Pan GT Come potete vedere Ragazzi Quindi adesso vi faccio vedere dove si piene tutta questa roba Aspettate Eccoci qua Allora, 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 allora Qua potete, allora andate in cerca Intanto Poi scrivete Dov'è la D Non ho già superato da un pezzo Dragon Ball Ecco Qua potete, andate in secondo Dove sotto Poi troverete ragazzi Il pacchetto GT1 Pagina, eh sì Pagina Dragon Ball Xenoverse Guardate Dove potete sbloccare Goku GT, Pan GT e Trans GT E altri due costumi che non sono molto belli Ecco Però Poi c'è questo Pacchetto GT2 Dove c'è Mira, come ho detto La sorella di Dargula su Sherron e San Sherron Poi abbiamo Movie Costumi Pack Dove ci sono i nuovi costumi del nuovo I nuovi costumi del nuovo film che uscirà Prendete questo e tanto Sono tutti gratuiti Questi qui che vi ho fatto vedere E poi ci sarebbe anche il Season Pass Che diciamo che è questo insieme Dove ci sono queste tre cose Però ti costa un sacco il Season Pass 24 euro Questa è poi bene la roba Però gratis Quindi torniamo indietro Vi ho fatto vedere come potete andare a trovare questa roba Torniamo sul gioco E ragazzi questo è stato il mio video Anzi Aspetta Allora, allora Poi vi faccio vedere anche quello che potete sbloccare Sbloccare quando prendete Goku, Piccolo, Trans, GT e Pan Sbloccare questi Allora La vendita degli Zufuro Dove c'è Baby, Scignone E Piccolo ma Forte Dove potete ingaggiare la Super Sfera Jekidama Poi Poi se prendete quello con su Sherron e San Sherron Vi dicete questo Super G17 L'Android Supremo Io ormai avevo finito Però non avevo praticamente energia Poi Draghi Malvagi Che questo È difficilino E qui potete sbloccare questo Però è veramente difficile ragazzi Poi se prendete il Season Pass C'è qualcosa di aggiuntivo Mi sembra che Questo No No, 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 no Aspettate Non mi ricordo Poi vi dico dove potete sbloccare il Super Saiyan In questa potete Ingaggiare il Super Saiyan Vegeta Allora Adesso vi faccio vedere Dove c'è scritto lì Alleati con Vegeta E finisci con lui in vita E batte Super Saiyan Vegeta In pratica ragazzi Dovete sconfiggere prima Gli alleati di Freezer E poi Dopo Allora I nemici di Freezer Gli alleati di Freezer Poi dovete Andare nell'astronave di Freezer E vendere Krillie Come aiutante E Krillie deve morire Contro Freezer E dopo Arriverà Goku Che si incavola E diventa di Super Saiyan Dopo dovete sconfiggere Freezer Al 100% E dopo Al 100% Arriva Vegeta E dopo Dovemo sconfiggere Freezer al 100% E c'è la probabilità Che Vegeta Diventi Super Saiyan E va contro di noi Va contro Goku E me E poi ci sarebbe Questa Dove io Però le ho comprati Il Super Saiyan 2 L'ho comprato Questi dovete Sconfiggerli tutti Però è Difficile Non è facile Vi consiglio più Questo Perché è molto più facile Ve lo dico io Poi Aspetta dove è Super Saiyan Ecco Qua dovete fare Dovete sconfiggere Gohan Ehm Batip Eh sì Gohan Junior Vegeta E dovete battere Prima Krillie E c'è la probabilità Che Goku Diventi di secondo livello E diventa potentissimo E c'è la possibilità Di droppare La mossa Allora ragazzi Torno con il mio vestito Di Perina Questo Perché mi piace un sacco Ecco E parrucca sì Ecco Ragazzi Questo è stato Il Aspettate Questo è stato Il Il mio video Ci vediamo al prossimo Ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi